ciao a tutti ragazzi sono leone bentornati su arc per il 24esimo episodio mamma mia mamma mia ragazzi quanti ne abbiamo fatti già quando ti guardi indietro e dici cavolo già registrato 20 episodi e vabbè dai uno via l'altro non ti accorgi neanche raga allora è l'ultimo episodio che faccio in questa zona palude redwood perché mi sono rotto le scatole di questo bioma mi è sempre stato antipatico non ci sarei mai venuto ma ci sono troppi dino da catturare buoni in questa in questa zona in realtà ne avremo ancora tanti da catturare ci mancano un megaterio ci mancano i terror bird ci manca ancora veramente un sacco di roba e però vabbè pazienza e casomai ci torniamo un po perché mi sono anche un po stufato variamo un attimo magari ci andiamo a guardare un attimo e la madonna 140 io ho già la gabbia raga me l'autamo io in solo e ci vediamo direttamente dopo raga perché perché questi qua ce li eravamo persi chi ha seguito qualche puntata fa visto che me li hanno ammazzati subito le scimmie puzzolenti ok raga ingabbiato ma come livello 20 no dai mi ha seguito quello sbagliato e che cavolo signore fammelo ammazzare sto scemo livello 20 ma pensa a te no riguardo per sicurezza perché se poi dopo scopro che ho ammazzato un livello allora 140 mincavolo raga non ho capito da dove è arrivato sto livello 20 mi stava inseguendo il 140 signore comunque ragazzi stavo dicendo che il prossimo magari episodio vorrei incominciare a spostarmi verso la zona del vulcano o magari ritorniamo un attimo se è troppo ostica vado a farci un giro se è troppo ostica e casomai dove cacchio è andato adesso quello là casomai ritorniamo un attimo nell'artico perché lì c'era veramente un sacco di roba guarda che bel barioni c'è però ce li ho già è lui sì è lui mi sa mi sembra di aver visto un uno davanti comunque casomai ritorniamo nell'artico ragazzi perché c'è ancora un po di roba lì da tamare in realtà non ci siamo più trovati aiuto non non ho più trovato lo yu tiranno c'era quello rosso bellissimo forse nel decimo dodicesimo episodio non lo so era ancora all'inizio e non l'ho più trovato era livello 130 120 non so però era fighissimo dai me lo ingabbio alleluia alleluia vemus sarco dai non ci credo che fortuna ritorna la coppia brontosauro livello 15 ce la faranno i nostri eroi ragazzi ovviamente me li sono già fatti eh ho tagliato tutto perché comunque questi ce li eravamo presi va 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 lì come vanno mamma mia da quanto non mangiano come vanno lanciati no in realtà ragazzi sono 15 minuti che gli faccio mangiare tutti quelli che ci sono qua nella pianura del mywing che eravano di fianco mi son mangiato letteralmente tutti ottimo alla fine ci siamo guadagnati ho perso quei sarco là che erano 130 forse la femmina era un 140 il maschio se non ricordo male e alla fine ci siamo beccati questi qua che sono anche più forti per fortuna dai mi dispiaceva un sacco a me i sarco piacciono un casino soprattutto per muoverti nell'acqua perché sono straveloci adesso sono velocissimi anche la gatina sono velocissimi anche a terra perché ragazzi gli ho pompato 10 per cento di velocità sono diventati veramente superman superman quando corre di fianco aia ammazzatemi questo qua per piacere che vuole fare il fenomeno guarda te ti fanno vedere loro un vero sarco come è fatto allora non riesco a volar via dai continuo a planare sul cadavere dai mi ammazzo questi altri due raga e intanto vi dico oggi vorrei tentare tentare e senza tentare perché lo voglio trovare mi son rotto le scatole ragazzi voglio un cavolo di spino prima di andarmene da qui voglio il cavolo di spino il dannato spino che cerco dalla terza quarta puntata non me ne frega niente mi metto la secondo me ho raggiunto il limite massimo di creature perché non spawna più niente mi metto la sul castello con la pistola vedete che mi son fatto un bel po di colpi non me ne frega niente ammazzo tutto quello che si muove e respawnerà qualcosa ammazzo vado via ritorno non mi interessa ci perdo anche un'ora ma dove cacchio è andato quello starà arrivando eccolo lì e ragazzi lo voglio trovare non me ne frega qualsiasi livello intorno al 100 va bene il livello 90 80 tanto lo spino è forte perché se sto qua anche ad aspettare che mi spawna il 150 al 130 e il 120 e fare le a fare la diciamo la la roulette la tombola non finiamo più guarda che sti scemi che continuano a girare cosa stanno giocando ti mordo la coda dai raga andiamo verso la palude e vai di spino è allora mi son messo qua appollaiato raga sul cesto dino piteco qua è dino piteco giganto piteco 95 che gira da due o tre puntate ma sinceramente non è che mi piace più di tanto cominciamo a fare il tiro a bersaglio perché devo far sparire un po di gente qua nella speranza che mi respawni qualcosa perché c'era ancora quello spino di livello 20 verde e quello che si era imboscato perché lo mangiava il sarco madonna ma non muore era ora guarda guarda che ancora la mamma mia ti devi togliere fai schifo voglio uno spino di livello alto è morto mi sa che è morto vai facciamoci stoptero qua che figata sta pistola facciamoci quel sarco che fa lo sbruffone che si è mangiato già il cadavere dello spino voleva mangiarsi anche il lottero è veramente comodo comunque il mail come cacchio si chiama il coso sulla schiena qua non mi viene più il nome raga oddio oddio che lapsus raga come cavolo si chiama mamma mia dopo che ci sono diventato matto è il cinema crops ah mi è arrivato mamma mia il cervello che fa brutti scherzi ragazzi e vabbè dopo tutto troppi troppi anni di videogame gli occhi e il cervello stanno andando a scherzo non sono di certi videogame raga non sono di certi videogame che che ti bruciano il cervello o meglio certi no anzi c'è chi sostiene avevo letto un po di tempo fa con uno studio che aumentano la reattività e qualcosa tipo la connettività di certe sinapsi del cervello addirittura perché comunque sei più reattivo avevamo fatto uno studio su delle persone di una certa età ovviamente è chiaro che l'ottantenne che si mette a giocare magari gli viene anche da sboccare più che da svegliarsi con la testa però c'era veramente una reattività in questo studio che avevamo fatto non mi ricordo tipo su mille su diecimila ragazzi e ragazze di una certa età dimostrava che erano più reattivi poi nella vita reale alle cose che potevano succedere insomma gli inconvenienti rispetto a qualcuno che non se li aspetta no ovviamente perché vivendo e dovendo reagire in un mondo fantastico quando poi vivi nella vita reale dove diciamo un po più tranquilla di certo non ci sono i dinosauri che ti seguono no per ammazzarti o qualsiasi altra cosa però diciamo che magari sei più reattivo non so ti sta arrivando la macchina di corsa ti accorgi ti tiri indietro non ti catta sotto cioè sono un po meno indormenti diciamo no degli altri poi oh gli studi vengono sempre fatti smentiti e ce la facciamo ad ammazzare sto megaterio no ok gli studi vengono sempre fatti poi smentiti poi riproposti insomma ci giocano un sacco dentro con tutte queste cose qui perché piace sempre fare la discussione poi i videogame sono sempre demonizzati ma mollateci fateci divertire non roppete le scatole stiamo in casa non rompiamo le balle a nessuno ragazzi ma diciamolo ad alta voce stiamo in casa e non rompiamo le balle a nessuno ci si lamentano tutti sempre che magari i ragazzini sono in giro a dar fastidio a far danni a droggarsi nei parchetti e rompo le scatole e poi però ti rompo le scatole quando stai in casa a giocare oh ma fatevi i fatti vostri fateci fare quello che vogliamo no e che cavolo io glielo ho sempre detto mia mamma ma mollami preferisci che sono qua davanti cioè io davanti a casa ragazzi abitavo in piazza con i miei genitori in una piazza con la chiesa e campanile insomma c'era un parchetto davanti madonna dovevate vedere che disastro tra spacci gente ubriaca di notte prendevi sentivi lanciare le bottiglie gente che urinava dappertutto arrivavano lanciati con le auto e i motorini sgommate 4 di mattina volume alto carabinieri polizia non riusciva a mandarli via nessuno un disastro poi mia mamma mi rompeva le scatole che stavo in casa a giocare così cioè non avevo nessuno con cui uscire tutti quelli con cui ero cresciuto erano quelli lì che cacchio faccio cioè vi rendete conto ero cresciuto con tutta quella gente lì uh metà orso in effetti questo non ce l'abbiamo raga mentre aspetto che spawna lo spino magari tanto ho trucidato l'impossibile delle persone dei dino qua fuori direi di incominciare magari a aggrarci questo qua vediamo un attimo eh se riesco a farlo addormentare effettivamente ci sono pochi carnivori se riesco a farlo addormentare anche qua sotto se non riesco a portarmelo nella gabbia io provo comunque a portarmelo nella gabbia comunque raga veramente ero cresciuto tra asilo elementari medie con tutta quella gente lì diciamo e che poi era quella del paese che stavano lì a far danni a rompere le scatole a bere a fumare a drogarsi insomma a fare tutte ste robe e poi mia mamma mi rompeva le scatole vai fuori vai fuori dove vado io ho detto piuttosto che andare lì allora mi faccio i fatti miei gioco mi piace più giocare no cioè non lo so vabbè lasciamo stare intanto alle mamme non va bene mai niente se fai A vogliono B se fai 2 vogliono 1 se hai la morosa bionda non gli piace la vogliono mora insomma c'è sempre una da rompere le scatole non gli va bene mai un cavolo dai raga cerco di aggrarmelo io con calma anche perché mi sa che devo tirare su ancora i muri così non vi non vi stresso con tutte le mie storielle che di solito racconto tutte le e gli aneddoti della mia vita oramai le racconto sul gioco dei camion perché c'è un po' più di tempo per parlare tranquillità allora raga sto notando mi sono messo qua sulla casetta intanto sino macrops top veramente top tier dei dino sto notando che lo screw come si dice credo si dica così l'urlo che fa per allontanare i dino più piccoli non funziona sempre ha tipo una specie di tempo di ricarica correggetemi se sbaglio ma vedo che ogni tanto lo fa e poi ogni tanto invece mi vengono a romper le scatole infatti anche prima i dimorfodonti no com'è che si chiamano non mi ricordo mai uno è scappato l'altro mannaggia l'ho mancato uno è scappato e l'altro non andar di là ok dai vieni di qua uno è scappato invece l'altro mi menava quindi avrà presumo un un tempo di ricarica preso allora se si addormenta qua non c'è neanche tutta sta gente pericolosa raga io ho sempre la pistolina l'optero anche se toglie poco riesco un attimino a dove va riesco un attimino a bloccarli ma perché devi andare in giro come uno scemo ma non puoi star qua dai sei veramente un idiota eh vabbè seguiamolo tanto alla fine sta anche andando verso il ponte quindi ci va anche bene ragazzi gli faccio passare il ponte meglio che nell'acqua che me lo mangiano subito i piragno eccolo qua o qualsiasi altra persona dai portiamolo verso il ponte se riesco non so se mi sta seguendo si dai che mi segue dai dai grande grandissimo no è finita la musica aspetta forse non mi segue devo stare attento un attimo perché qua queste scimmie ce l'ho aia allora mi stai seguendo eh ok allora ok mi ha deaggrato perfetto allora raga mi devo andare assolutamente a liberare a liberare perfetto lui sta lì tranquillo e non lo tocca nessuno e mi devo ammazzare queste scimmie adesso faccio il tiro a bersaglio finisco di tirar sui muri alla gabbia che l'avevo spaccata l'ultima volta e poi ce lo ce lo portiamo qua che è veramente easy dai ottimo ho ammazzato quelle due scimmie schifose mi stavano uccidendo se vedete la vita non so come cavolo hanno fatto madonna ste laggate non so come cavolo hanno fatto ragazzi ma stavo sparando da una rupe hanno cominciato a beccarmi con penetrate nella roccia ste sceme me le ero portate là in fondo dove ci sono le rocce e mi ero messo su a una roccina lì i ragazzi mi hanno menato mi hanno tirato quattro botte mi hanno lanciato giù meno male sono riuscito a volare via col sinoma crops perché facevo fatica anche a prendere quota mentre mi menavano dai muoviti non farmi perdere tempo che poi devo andare anche a beccarmi uno spino vieni ragazzi veramente mi hanno tirato quattro zampate madonna ma sti lag muoviti ok marbone maledetto che si gira alla vigliaca e ti morde mamma mia ma sei fuori ma quanto cacchio toglie l'optero comunque raga quattro sgraffioni mi hanno quasi ucciso le scimmie schifose figli le odio veramente quelle schifezze di scimmie lì un dino veramente che se potessi eliminarlo dalla mappa l'avevo già detto ma dai che non ci voglio aia non ci voglio rischiare l'optero perché tu sei scemo e non ti muovi oh alleluia dai cominciamo sto cacchio di timing non perdiamo tempo che sto orso qua mi ha già creato abbastanza problemi a momenti muoio io mi muore anche l'optero fa un bagno dai dai è già un po' che gli sparo raga ma invece di continuare a correre in giro come un imbecille no ma veramente ragazzi ci è andato giù prima il terizinosauro che è più grosso di sto ammasso di ciccia qua di orso polare nato nel bioma sbagliato dai se non fossero così letali sarebbero anche buoni come animali domestici c'è chi è che non vorrebbe un orsone a casa ti ci avvolgi in mezzo alle zampe ti fai un pisolo davanti alla televisione ti guardi i programmi della domenica no scherzo che programmi della domenica oramai in televisione c'è solo dello schifo ragazzi non l'accendo più da dieci anni circa sono dieci anni che non accendo la televisione se non per collegarci la play dai vacci giù vabbè dai vi taglio come al solito agli ultimi due dardi perché sennò qua viene come dicevano le maestre a scuola il latte alle ginocchia che brutta espressione mamma mia odiosa soprattutto detta da certe persone da certe e non dico altro perché veramente ho avuto ah ci è andato giù ottimo niente taglio raga davvero comunque ho avuto delle brutte esperienze a scuola di persone veramente che se la prendevano oddio un sarco togliamocelo dalle scatole 145 ma cos'è sto spawn aggressivo di sarco togliamocelo dalle scatole adesso ho anche fame comunque raga non credo di essere l'unico perché ne ho sentite tantissime di maestre o comunque professoresse se parliamo di scuole un po' più in là un po' più avanzate che se la prendono per niente con te ti richiamano e ti danno le note e ti chiamano i genitori anche quando tu non c'entri sono gli altri che fanno casino io sta ingiustizia qua non le ho mai sopportate mai mai e tutte le volte ragazzi che ci si trovava in gita con queste qui o con questi qui perché mi è capitato sia con donne che con uomini tutte le volte che ero in gita e c'erano i loro figli erano delle pesti ma delle pesti erano allucinanti e non gli dicevano niente poi però rompevano le scatole te e li capisci perché si accaniscono su certi perché a quanto pare gli ricordi il figlio che non riescono a controllare allora se la devono prendere con te perché sono impotenti a casa eh vabbè ma li ho sistemati io i figli di queste qua perché poi dopo mi giravano le scatole e gli davo io la raddrizzata perché non ho mai avuto paura di queste cose tanto comunque ti robeva le scatole e quindi tanto vale fare giustizia raga comunque basta basta sproloqui sulla vita di leone ragazzi perché qualcuno magari starà anche dicendo ma ti stai zitto e mi tamidino che non me ne frega niente dei fatti tuoi e niente dai io parlo sempre un po' ruota libera molto tranquillamente anche perché magari a qualcuno fa piacere anche conoscere conoscere qualcuno che c'è dietro lo schermo che non hai l'occasione di conoscere insomma tanti abbiamo sempre seguito io per primo abbiamo sempre seguito magari degli youtuber o qualcuno che faceva i video e ti immagini come può essere la persona e magari raccontare anche delle esperienze un po' simili che qualcuno si sente si sente magari tante volte un povero incompreso isolato ma vedere anche che c'è qualcun altro che ha i tuoi stessi problemi può farti un attimo rincuorare dai un attimino comunque basta non racconterò più niente non romperò più le scatole su arc e così cercherò di frenare la lingua per quanto riesco e parlerò magari solo sui camion che c'è i viaggi lunghi e tutto il tempo guarda l'orso yogi come si tama raga vi ho tagliato ovviamente tutto il scendimi la fame dammi il narcotico tutta perdita di tempo tanto sempre la stessa menata il timing l'abbiamo visto più o meno e quindi il timing diciamo lo lo sdarding stavo dicendo ancora freccette mi sarei preso a sberle giuro lo sdarding il catturing l'abbiamo visto quindi il il papping il feeding lo lasciamo l'ho tagliato un attimo adesso gli è anche infatti gli ho detto abbastanza presto anche da mangiare perché non avevo neanche voglia adesso appena si tama sto rimbamborso qua sto coccolorso andiamo subito andiamo subito a vedere se è spawnato qualcosa non so se spawnano anche a star così vicini o c'è da allontanarsi un attimo se no al massimo gli do un'altra sparata a tutti quelli della zona e ottimo preso gli do un'altra sparata a tutti quelli che ci sono in zona ragazzi li elimino e vediamo se respawna perché i want spino assolutamente dai me lo esco dalla gabia ragazzi lo metto sul ponte tranquillo così non gli rompe le scatole nessuno e poi ritorno la in zona in zona spinozauro si spera si spera giuro eh spacco tutto se non trovo lo spino spacco tutto dai esci vabbè ragazzi ho già capito ci vorrà una vita a fargli capire dove la porta non ho voglia di spaccare ancora tutto che poi devo ricostruire per per lo spino la gabbia che tra l'altro così piccola non so neanche se va bene mi sa che mi toccherà oh ce l'abbiamo fatta è uscire mi sa che mi toccherà ragazzi ingrandirla un attimo e metterci tutte le rampe di qua così lo porto dall'acqua che faccio meno fatica dai ci becchiamo dopo ingrandisco la gabbia e cerco lo spinazzo anzi prima cerco lo spinazzo se no perdo due ore a far la gabbia vuoto visto che continuavate a dirmelo nei commenti ragazzi usa le criocapsule ma ce le ho solo che mi dimenticavo sempre perché sono un bigolo sono un pirla ragazzi mi continuavo a dimenticare di portarle dietro e finalmente me la so ricordata adesso la mettiamo qua al sicuro nel nel come cacchio si chiama nell'optero e andiamo per sto non voglio neanche più dirlo quella parola lì cerchiamolo raga cavolo stanno spawnando un botto di livelloni guardate sto carno livello 150 orso maschio 140 che cos'era il nostro maschio o femmina no perché volendo già che siamo qua ed è anche praticamente quasi sul ponte darei un occhio un attimo al nostro dov'è che si vede ah niente maschio che palle raga che sfiga e niente comunque dello spino ancora neanche l'ombra ragazzi quindi provo a riammazzare un po' tutti quelli che ci sono qua e speriamo respawni anche quello lì dai c'è sempre la speranza ma neanche uno ne spawna di livello basso è assurdo allora raga voi lo vedete cioè sinceramente ditemi se lo vedete no perché io ci ho messo un'ora di avanti e indietro per vederlo ditemi se lo vedete cambio angolazione un attimo no perché mi sembra di essere scemo chissà da quanto è lì là c'è un terror bird fa veda un attimo mica che mi agra giusto per capire che livello è se fosse anche un livello alto magari me lo piglio che questo mi manca pulcino spennato livello 20 fai schifo il pulcino pio niente raga ma voi lo vedete ditemi se vedete lo spino no perché è lì io non l'ho visto mi sembra di essere davvero un imbecille raga cambio un attimo angolazione perché io ora vorrei capire ragazzi se questo spino è sempre stato qui da prima ancora che magari è qua da tre puntate da tutte le volte che sono venuto qua adesso ho ammazzato anche tutti questi qua magari non è neanche nello spawn nuovo è ancora nello spawn vecchio ma non mi sembra perché comunque con la luce ero già venuto e l'avrei visto dai per quanto è incastrato infognato e si si nasconde bene si mimetizza bene si vede solo praticamente si vedono le spine sulla sulla schiena diciamo adesso non mi ricordo come si chiama quella roba però ragazzi preparatevi dove cavolo è mi rendete conto che è lì glicciato da chissà quanto sono anche andato lì e non mi ha neanche beccato cioè non riesce neanche ad aggrarti perché è incastrato sulle rocce io vorrei capire se è spawnato direttamente incastrato lì tra l'altro non sembra neanche marrone che non è colore roccia sembra rossastro rosso è bellissimo vorrei capire se questo qua è spawnato direttamente nella roccia o non si vede è lo stesso colore e si è rossastro ecco perché non si vede perché le rocce non sono marroni in effetti sono tipo quel rossastro tipo terra di siena vorrei capire che raga se è qua da tre puntate un altro metà orso rompi scatole che livello sei livello novanta qualcosa non posso atterrare qua questo mi mi spacca 60 no ho letto male va bene che stress ste robe ma non doveva il cinema crops allontanarli sti qua vedete che non riesce a muoversi è incastrato adesso gli è arrivato oh si è sbaggato ottimo si è sglicciato ottimo grandissimo dai adesso cercherò di portarmelo di là e me lo ingabbio raga però prima vado a fare la gabbia perché ovviamente non l'avevo ancora fatta cioè veramente vorrei sapere se questo qua è qua da quante puntate o se è spawnato direttamente sulla roccia perché sono passato 40 volte mi ero fissato lì davanti poi al castello e di qua non ho più guardato neanche spino ti voglio tanto bene perché ti nascondevi da me raga sto finendo di mettere le scale così sale comodo comodo mi sono sbattuto un attimo di più l'ho fatta un filo più grande ho aggiunto una striscia di come si chiama di fondamenta e ho messo tutte ste scalette di qua così arriva diretto e sale senza problemi perché se devo anche stare a fargli fare la curva di là non finiamo più qua sta roccia un po' in mezzo alle scatole adesso la butterò giù perché la butto giù perché ho paura che mi si incastra su non voglio intoppi deve entrare veloce e comodo ragazzi perché voglio il mio spinone assolutamente aia cosa è successo ma è sino macrops ma scusa ma attacca attacca a caso così anche pesci e altre bestie pensavo se la prendesse solo con gli insetti invece gli piace anche al micio piace il sushi altra citazione raga allora finiamo di mettere ste scalette quante me ne mancano una qua due tre ok me ne mancano tre un due tre via dai madonna che brutte le texture della pistola quando non le carica sembra un ammasso di di argilla spappolata a caso non me lo sono ancora avvicinato niente l'ho lasciato là perché è qua se non c'è la gabbia metti che mi riesci a seguire tutto in una volta vedete che ho allargato anche di uno i muri spero basti ho alzato non allargato e ho allargato da questo lato una striscia di fondamenta e ho perso più tempo per mettere tutte ste scale che per fare quattro muri va bene dai ricoveriamo l'optero e poi incominciamo a diventare scemi perché questo qua farà male e ho paura riesco a tirarvi anche sta roccia che questa mi sembrava infatti tanto scenografica questa fa parte del contesto niente spero non mi muoia l'optero a fare tutta quella strada e anche perché non riesco ad agrarlo con i dardi qua col fucile dai raga madonna quanto è comodo il sino andiamo a prenderci quel dannato spino che gioca a nascondino dai io giochiamo a nasconspino dai muoviti porco cane si mette a litigare con tutti i ragazzi è un disastro portarlo per mare adesso c'è sto sarco ma vi giuro che è mezz'ora che sto cercando di agrarlo si perde con tutto piragna e i cosi lì i pesci adesso c'è sto sarco continua a fermarsi poi comunque perde l'agro anche se non c'è nessuno nell'acqua non so come mai io ho una paura ad avvicinarmi perché mi ha disarcionato già una volta e meno male che sono riuscito a volare fuori che c'era una roccina no no non ce la fa salire no dai non ce la fa salire aia però a mordermi si eh ah ottimo dai è salito mamma mia pensavo non ce la facesse dovevo riallontanarlo ancora se no ragazzi poi per riuscire a fare le scale ancora ottimo ottimo madonna è troppo bello sto rosso comunque raga è troppo bello sto rosso comunque raga una volta mi ha tirato un morso mi ha mandato contro l'acqua e da lì infatti ho avuto paura ad avvicinarmi troppo perché mi ha buttato giù ovviamente mi ha disarcionato ma meno male che c'era la roccina sono salito sulla roccina al pelo raga e sono volato via col sino se no mi mangiava ero fregato bene dai ragazzi sprezzanti del pericolo qua di fianco a una creatura temibile come lo spino e di una bellezza allucinante perché guardate che cacchio è bello sto rosso continuerò a ripeterlo sei bellissimo dai ragazzi prossima puntata ce lo tamiamo e lo proviamo veloce un attimino e poi emigriamo subito verso la zona del vulcano vediamo se c'è un minimo un angolino abitabile non troppo pericoloso così faccio un piccolo avamposto e poi ce lo esploriamo con calma vediamo che creature ci sono là dai allora ci salutiamo come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale lasciate like e condividete per aiutarmi a crescere e come sempre un rugito a tutti dal vostro leone ciao 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 ciao